Oggi vi leggo in parallelo il frammento 338 di Alceo e l'Ode 1.9 di Orazio. Perché ve le leggo in parallelo? Perché è molto probabile che l'Ode 1.9, del primo libro Ode 9, abbia come modello il frammento alcaico. Frammento perché noi non lo abbiamo tutto. E uno degli elementi che ci dice che quello potrebbe essere il modello è che effettivamente la metrica che usa Orazio nel testo latino si vede abbastanza bene, è la stessa di Alceo, cioè è una strofa alcaica, una strofe di Alceo, possiamo proprio così. E come vedremo, non come in altri casi, l'inizio del carme è lo stesso, ma l'immagine è la stessa e almeno le prime due strofe hanno una comunità tematica. Poi chiaramente dopo non possiamo vedere lo svolgimento del frammento del Alceo perché noi non sappiamo né quanto fosse lungo e come poi si svolgesse. iniziamo a leggere il carme di Alceo che vi ho dato col testo a fronte in greco, anche a farvi un po' vedere come è fatto e quanto poco in realtà si legge. Tutti questi buchi che ci sono, sono dovuti al fatto che sono citazioni o testi che vengono da tradizione papiracea. In questo caso è una tradizione indiretta, cioè è qualcuno che cita il carme di Alceo. Alceo dice Piove Zeus, espressione molto strana, ma noi diciamo piove perché originalmente gli antichi dicevano Piove, Giove o Zeus, cioè Dio fa piovere perché sapete che Zeus è la divinità principalmente della pioggia del cielo. Piove Zeus, e noi oggi si dice piove e è un verbo impersonale, non perché sia veramente impersonale ma perché in origine era la divinità che faceva piovere. Piove Zeus, giù dal cielo una grande tempesta, sono fermi corsi d'acqua perché sono bloccati vuol dire, cioè bloccati dal ghiaccio. Poi manca un verso probabilmente e Tieni dietro l'inverno, in realtà in greco suona come scaccia l'inverno cheimona e aggiungendo fuoco cioè riscaldando e mescendo, cioè mescolando in abbondanza vino di miele cioè dolce come il miele non vi deve sorprendere questa espressione perché il vino greco era molto molto zuccherino e molto alcolico poi sopra le tempie morbida cingi all'intorno lana cioè fatti una sorta di corona di lana intorno alle tempie questo perché vi ricordate, l'abbiamo già visto in un altro carme prima di fare il simposio i greci si mettevano delle coroncine in testa in quel caso lì era di Mirto nel caso del carme oraziano che avevamo visto in precedenza qui fa di lana probabilmente perché è freddo la traduzione è di Antonietta Porro in un testo edito dai giunti quella invece che vi porto sotto come traduzione è la traduzione che trovate nelle edizioni delle Naudi ora per ora ve la faccio solo in traduzione italiana vi lascio il testo latino perché successivamente vi farò fare anche la traduzione non ve la faccio subito perché non ho voglia di caricarvi troppo per le interrogazioni prossime venture cosa dice Orazio vedi come il soratte si leva biancheggiante di molta neve cioè vedi come sta alto dice qua il soratte come sta candido di alta neve questa è proprio la traduzione corretta ne ormai reggono al peso le selve sovraccariche cioè piene di neve stanno fermi e qui è proprio esattamente la traduzione dal ceo costiterinte per il ghiaccio pungente vedete che Orazio carica l'espressione mentre in alceo è semplicemente ghiaccio però noi non sappiamo se poi lo sviluppo del testo in alceo fosse con che segnava che c'era il ghiaccio comunque l'espressione come vedete è abbastanza la stessa non dice che piove o meglio qui potrebbe anche nevicare ma probabilmente piovere e invece qui si capisce che c'è la neve cos'è il soratte? il soratte è una stranissima montagna vicino Roma una specie di coni isolato in mezzo a una pianura che sta in Sabina quindi nella zona nord di Roma e il suo difetto cioè la sua cosa particolare è che sembra un cono questo perché è un vecchissimo vulcano la cosa simpatica è che diciamo raramente il soratte è imbiancato perché chiaramente è basso in cima al soratte c'era fra l'altro un tempio in antichità di scatto ah l'abbiamo anche trovato l'abbiamo trovato nominato in guido da Montefeltro l'anno scorso non so se vi ricordate ma il tizio viene citato un papa che si nascondeva nel soratte ora cosa dice al ceo? di scaccia, scaccia il freddo cioè caballè tonkeimon come dice al ceo cioè tieni a lontana l'inverno scaccia il freddo traduzione diretta dal ceo o taliarco quindi dà un'espressione si rivolge a qualcuno che è come se fosse una persona che sta lì a simpose con Orazio riponendo legna buttando legna in quantità sul focolare cioè aggiungendo fuoco in greco è ponendo in aggiunta fuoco e cava più largamente cioè tira fuori più largamente dall'anfora sabina il vino di quattro anni qui in alceo dice diciamo sì mescendo tirando fuori vino senza risparmio di miele qui non è di miele il vino ma è vino di sabina cioè un vino diciamo rustico un vino del luogo di quattro anni però un po' invecchiato quindi tutto sommato non male e qui il di miele diventa considerato un vino che è rustico perché come sapete Orazio gli piacciono le cose rustiche le cose diciamo non particolarmente complesse però in questo caso almeno un po' invecchiato viene completamente saltata tutta la parte che alceo implica della coronarsi le tempie di lana che è l'atto iniziale di un simposio ma alceo ma Orazio parla di qualcosa di diverso cioè qualcosa che è molto più vicino alla sensibilità oraziana ora chiaramente non sappiamo cosa dicessi alceo qua rimetti ogni altra cura agli dei cioè non interessarti di tutto il resto stessa cosa che dice nel Carpe Diem per opera dei quali cessate appena le battaglie dei venti sul procelloso mare cioè sul mare che fa tempesta che fa le guerre fra di sé cioè stesse immagini che c'è nel Carpe Diem negli annosi cipressi negli orni hanno più alcun fremito cioè sono gli dei che cessano le tempeste tra l'altro vi devo sinceramente dire che queste immagini del fatto che sono gli dei non bisogna pensare a queste cose perché sono gli dei che fanno cessare le tempeste è un'immagine in realtà saffica che è un'immagine che abbiamo scoperto di recente perché 3-4 anni fa è uscita una poesia nuova di Saffo scoperta dentro un papiro e questa immagine è identica in Saffo e cosa gli dice non domandarti quel che sarà per accadere domani quel che starà per accadere e qui c'è quid sit futurum eras fugge querere e ricordate che questo que quesiviris scire nefast la stessa cosa è lo stesso tema che viene fuori nell'ode del Carpe Diem e qualunque giorno ti concederà la sorte stessa espressione tienilo per guadagno cioè non pensare a cose troppo complicate altra cosa che abbiamo visto in Alceo confrontandolo con il Carpe Diem ma non importa quanto non pensare troppo al futuro ma pensa al presente ai piaceri piccoli magari ricordatevi che nel concetto epicureo i piaceri sono piccoli ma tienilo per guadagno non disprensare e quindi scopriamo che Taliarco è giovane giovane come sei i dolci amori dulcis amores ricordate il termine dolce che è l'aggettivo dolce è spesso legato agli amori ed è una dolcezza molto molto fisica quando vi commentavo Petrarca che qualcuno di voi non ha guardato vi dicevo spesso è diverso da suave nel senso che dolce è qualcosa di fisico e suave è più spirituale per cui la dolcezza del bacio il bacio è dolce ma non è suave perché è una cosa fisica nelle danze cioè non di spezzare danze cioè i piaceri della vita giovanile finché dalla tua fiorente età è lontana la bisbetica vecchiaia è lontana l'amorosa noiosa canizie che è un'espressione che poi abbiamo questa idea che la vecchiaia è legata ai capelli che diventano bianchi che è tipica del mondo greco non vicino da dove viene o meglio lo dico è mimermo ma l'abbiamo trovato anche in Virgilio nelle bucoliche adesso ti siano cari il campo di Marte e le piazze il campo di Marte è diciamo dove oggi c'è il Pantheon per esempio Piazza Navona cioè quella parte di Roma che sta nell'ansa del Tevere e che per i romani era considerata una zona di nuova edificazione perché fu edificata da Augusto in poi quindi in realtà in questo momento c'erano i giardini all'epoca di Orazio più o meno nel campo di Marte e poi c'erano una specie di stadio per fare le corse eccetera cioè ti siano cari il campo di Marte e le piazze i discorsi a bassa voce sul far della notte si rinnovino all'ora stabilita cioè i discorsi a bassa voce sul fare della notte cioè quegli appuntamenti galanti che non si fa a un'ora stabilita della notte a bassa voce come spesso viene il rapporto amoroso notate che in latino è sussurri con questa espressione estremamente onomatopeica tipica il sussurro è tipico dell'amore è un'espressione tipica dell'amore è la seduttività tipica dell'amore e si rinnovi anche il riso piacevole della fanciulla il grato riso della fanciulla dice in greco gratus risus poelle il quale la tradisce proditor dice in latino mentre si nasconde nell'angolo più remoto abangulus abangolo ma è l'angolo della bocca cioè qui fa riferimento al fatto che la donna magari la ragazza poi donna potrebbe anche essere perché poella in latino vuol dire fidanzata non solo ragazza quindi ma che è chiaramente giovane perché italianco è giovane è il riso piacevole della ragazza che cerca di nascondere il sorriso di compiacimento del fatto che l'amante diciamo la stia corteggiando e quindi il riso si nasconde nell'angolo più remoto della bocca cioè nella parte esterna alla bocca come se cercasse di non far vedere che sta ridendo ma che questo piccolo gesto tradisce il fatto che lei insomma è è stata persuasa all'amore guardate che nel mondo antico nonostante diciamo poi la libertà di scelta del partner era una cosa assolutamente non esistente ma almeno dal punto di vista topico bisognava dare il proprio consenso all'amore sempre l'amore è persuasione e il pegno cioè quella cosa che tu quegli oggetti che si dà nel pegno d'amore il piccolo oggettino la prima cosa che uno si tiene dalla donna amata come simbolo del fatto che una persona si ami considerate anche quello che oggi si dà l'anellino e il pegno che tu le strappi dalle braccia o dal dito che resiste debolmente è un'espressione molto tipica delle donne che le donne resistono sempre al primo momento in cui uno cerca di dar di toglierle un pegno o anche un gesto amoroso ma resiste debolmente male per tinaci di digito il dito che male resiste perché in fondo pur resistendo ma è una cosa di facciata ma poi in realtà la persona l'amante in realtà l'amata più che altro che una donna non resiste veramente perché dà il proprio consenso a questo gesto amoroso ora questo carme come vedete di nuovo riprende alceo cioè riprende un carme molto specifico di alceo che il pubblico dotto riesce a riprendere e noi siamo fortunati perché questo pezzo di alceo ce lo abbiamo e poi dopo sicuramente orazio un po' come aveva fatto Catullo nel carme 51 quello in cui traduce Safo che nell'ultima strofa varia nel nostro caso invece adatta il concetto di di alceo riportandolo praticamente al suo ambiente naturale all'ambiente di orazio quello diciamo consueto e quotidiano e poi gli dà una svolta di carattere epicureo diciamo molto molto forte molto molto evidente che chiaramente molto probabilmente non c'era in alceo ma la cosa importante è che questa è un po' una summa ideologica di tutto il brano non vi preoccupate che questo brano lo tradurrete anche in latino un pochino un pochino più in là un pochino un pochino un pochino